E' finita. Lo so, ce l'hai fatta. Vieni con me. Ciò significa più soldi per noi, giusto? Un nuovo dono. Te lo sei guadagnato. Padrino, è un onore. Padrino! È fuggito per miracolo. Dominic, oggi hai dimostrato una cosa. Che avevo ragione su di te. Ora hai il mio rispetto. Padrino. Padrino. Ehi, complimenti. Padrino. Salute, padrino. Salute. Complimenti. Complimenti. Padrino. Ehi, complimenti. Padrino. Complimenti. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Fredo, mi dispiace.